In compagnia di Marco Mondini, oggi si è presentato il tuo libro qui all'Università degli Studi di Salerno, un seminario ricco di spunti. Vogliamo trarre quello migliore? Sì, l'invito dell'Università di Salerno è stato veramente una grande occasione, perché ho avuto la possibilità di discutere questo libro con una serie di colleghi che mi hanno effettivamente suscitato molte e molto stimolante osservazioni. Diciamo che i punti sono fondamentalmente due. Il mio volume aveva come scopo quello di sprovincializzare lo sguardo sulla guerra italiana, quello di importare in Italia tutte le metodologie che hanno rinnovato la storia sulla grande guerra nel senso, nella direzione di una storia culturale. E direi che, secondo quello che mi hanno detto i miei colleghi, questo obiettivo è stato raggiunto. Questa dimensione dello sprovincializzare la guerra è molto importante. Molto spesso noi italiani continuiamo a pensare al primo conflitto mondiale, attraverso una serie di stereotipi. Continuiamo a pensare alla guerra come una sorta di imposizione brutale. Certo, ci fu un tasso di imposizione. La maggioranza degli italiani e la maggioranza del Parlamento non volevano entrare in guerra. La guerra fu decisa da una minoranza politica. Tuttavia, quando la guerra venne decisa, le proteste cessarono e soldati e civili fecero ognuno per la sua parte il proprio dovere. Sottolineare questa dimensione in qualche modo di consenso alla guerra oggi è molto importante perché non solo sfata gli stereotipi, ma riesce anche in qualche modo a, scavalcando alcuni paletti ideologici, metterci in grado di guardare la società italiana del 1914-18 come un prodotto complesso. La società italiana non era solo fatta dei contadini semi-analfabeti che andavano a farsi massacrare sul fronte dell'isonzo. Ovviamente c'erano anche loro, ma era un prodotto di cetimedi, di studenti, di giovani, soprattutto i giovani che avevano creduto e voluto la guerra. Di questo prodotto complesso io ho cercato di, in qualche modo, seguire le tracce nel mio libro e anche da questo punto di vista la discussione di oggi mi ha stimolato a pensare che sia stato un tentativo riuscito. Grazie a tutti.